salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi facciamo la seconda parte del video dedicata all'applicazione mavic fpv la versione beta che è attualmente compatibile con il dji mavic mini quindi proveremo i we point la missione che abbiamo creato nel primo video vi lascio qua sopra nelle schede appunto il video che avevo fatto qualche giorno fa in cui ho fatto vedere come creare la missione con mavic fpv e adesso proviamo appunto questa missione una missione semplicissima quindi niente di che non quindi non state a guardare cosa fa il drone a livello di inquadrature perché come avete visto quando l'abbiamo creata una missione semplicissima qua fuori nel mio giardino quindi proprio una cosa semplice ma che ci fa capire appunto quanto funziona questa applicazione e se funziona davvero bene appunto questa applicazione c'è un po d'aria non è un vento forte c'è un po d'aria però valutiamo anche questo nel diciamo percorso che andrà a fare il piccolo mavic mini anche i punti che ho creato come we point li ho creati così a caso quindi non è stata una cosa studiata una cosa veloce giusto per far capire appunto come funziona questa app che disponibile solo per ios chi invece ovviamente vuole utilizzare l'applicazione per android deve utilizzare red we point che l'applicazione che esiste solo per android quindi abbiamo due applicazioni ognuna per ogni sistema operativo quindi android ios questa è solo per ios quindi ragazzi non perdiamo altro tempo e partiamo in questa semplicissima missione col piccolo dj mavic mini allora vado a aprire l'applicazione vedete che il mavic si sta connettendo quindi vedete che ci dice che sul canale 5 a 2,4 giga abbiamo anche questa indicazione quando andiamo a connettere l'applicazione mavic fpv al drone quindi andiamo a fare tab to start si connette quindi ha rilevato anche la posizione quindi ha già registrato la posizione di decollo quindi qua siamo tutto pronto per il decollo abbiamo 15 satelliti tutto è perfetto infatti abbiamo rea di quindi andiamo a cliccare sui tre puntini vado a cliccare su we point vado a far partire la missione che abbiamo creato qualche giorno fa quando ve l'ho fatta vedere nel video ok vedete che l'applicazione ha rilevato subito il drone quindi vedete il drone quel simbolo della casetta che il punto di decollo del drone e la missione che pronta quindi a questo punto non ci resta che cliccare sul missile e far partire la missione del piccolo mavic mini gli diciamo yes fly e il mavic è pronto a partire per la sua missione ciao mavic adesso dovrebbe andare ad un'altezza di 30 metri dopodiché recarsi al primo we point e da lì poi iniziare la missione ecco infatti vedete che adesso va al primo we point si ferma ok adesso fa partire la registrazione vedete quindi adesso inizia la missione va al secondo i point che gli ho creato così a caso si dovrebbe mettere in posizione per il secondo we point infatti vedete che si gira per fare questo movimento progressivo di rotazione qua dovrebbe interrompere la registrazione scattare una foto perfetto adesso ricomincia la registrazione perché è quello che gli abbiamo detto di fare noi quando abbiamo creato la missione qua dovrebbe fare la stessa cosa arrivare al punto numero 4 fermare la registrazione perfetto scattare la foto e poi ricominciare ancora a registrare il video fino alla fine vediamo perfetto per adesso ragazzi tutto tutto perfetto ecco va al punto 5 poi vedete che tiene inquadrato dal punto 3 in avanti tiene inquadrato il punto di interesse che gli abbiamo creato quindi lui tiene il punto di interesse che sarebbe con la casettina col tetto rosso che è una casettina di un parco giochi tiene inquadrato quello perché è quello che gli abbiamo messo come punto di interesse quando abbiamo creato la missione quindi adesso missione completata go home adesso farà il suonato ad un'altezza di 40 metri perché è l'altezza impostata del mio ritorno a casa quindi lui da 30 metri è salito a 40 perché è l'altezza del che gli ho impostato io come ritorno a casa quindi adesso sta ritornando perfetto adesso qua è un po tutto molto ristretta come aria quindi magari vado a farlo scendere io manualmente perché non vorrei che magari va a sbattere ok in un po avanti piccolo mare perfetto guardate che spettacolo spettacolo eccolo qua che è tornato quindi a questo punto non ci resta che uscire andare a interrompere il video che ha registrato il mavic mini questo perché non gli ho detto alla fine di interrompere il video altrimenti lui all'ultimo punto di interesse avrebbe comunque interrotto il video se gli davo quel comando quando ho creato la missione però visto che non gli ho lasciato diciamo nessun comando lui fino alla fine continua a registrare quindi lo dovremmo interrompere noi a mano altrimenti basterà mettere all'ultimo punto di interesse l'interruzione della registrazione video in automatico verrà interrotta quindi ragazzi direi che questa app funziona benissimo avete visto spettacolo anche con il punto di interesse come si è comportato bene poi avete visto che comunque il raggio che ho creato intorno al punto di interesse una cosa che ho creato proprio così a caso non sono stato lì a fare un raggio magari più preciso meno spigoloso cioè ho fatto una cosa anche se lui arrotonda perché se gli diamo il comando progressivo comunque lui arrotonda quello che è il movimento del passaggio da un punto all'altro però ovviamente se poi quando glielo stiamo creando gli diamo anche noi una forma un po più precisa tutto viene meglio però era giusto per farvi vedere come funziona questa app e come secondo me funziona davvero davvero bene anche se attualmente è solo in versione beta ma ragazzi è a breve sarà disponibile per chiunque quindi la potrete acquistare dall'app store costerà 11 euro e 99 per chi invece ce l'ha già per un altro mavic perché magari ce l'ha per il mavic air 1 o per il mavic pro per il mavic pro 2 per questi droni basterà solo fare l'aggiornamento e lo potrà utilizzare anche per il mavic mini quindi ragazzi spero che questo video test questa seconda parte del video riguardante questa app mavic fpv vi è piaciuto spero che vi sia stato utile spero che vi abbia soddisfatto dal punto di vista del funzionamento vi abbia fatto capire come semplice creare la missione come semplice appunto per il mare che mini portarla a termine quindi ragazzi se questo video in cui vi portato sul canale questo video test dell'applicazione mavic fpv vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram iscrivetevi al mio canale 3 come offerte se l'avete ancora fatto e si va ovviamente ragazzi però iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un testo tutorial una novità ciao ciao